Ciao ragazzi, prima che tu inizi ad allenarti, vai a dare un'occhiata alla sezione il coach ti spiega, vedrai ci sono cose importanti prima che tu appunto inizi ad allenarti, per oggi durante l'allenamento ho alcuni consigli, quindi occhio, dagli un'occhiata, guardalo fino alla fine, allenati bene, ciao, il primo hand release push up, è una variante del push up, del piegamento o la flessione, l'importante è che ci capiamo, quindi occhio, tieni sempre forte l'addome. Ragazzi, il secondo esercizio, se non hai paura, se hai a posto le spalle e il tuo allenamento è medio avanzato, lo puoi eseguire, altrimenti per qualsiasi domanda scrivi sotto, occhio. Terzo esercizio, ma questi lo conosceranno molti di voi, è il plank, ma il plank nasconde veramente molte particolari dettagli che spesso vengono sbagliati, quindi dagli un'occhiata addome chiuso forte e contrai tutto quello che puoi, qualsiasi dubbio scrivi. quarto ed ultimo esercizio è il sit up, in questo caso la ragazza ha usato un disco ma l'idea è quello di andare dietro bene con le braccia e portare su il peso, cerca di estendere al massimo la schiena quando sai e chiudi forte l'addome, se hai qualsiasi domanda ancora ti ripeto, scrivi giù, lascia un mi piace ed iscriviti al canale, noi ci vediamo alla prossima, ciao!